auguri 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 a tutto il mondo auguri plastic oggi è una bella giornata a svi signorina per piacere oggi prima ha terminato guale il master oggi farete dottora italiana capisce cittadino salernitano eh cittadino sale etano sei qui a salerno 17 anni meno 3 mesi al computer come qual è il tuo nome nomi l'arbi con nomi suhail tutta la famiglia suhail nomi questo invece il plastic dove nasce invece perché plastica prima milla novanta e setta pace al salerno e non conosce il caffè insomma al bar caffè caffè però in bicchiere di plastica insomma perciò plastic plastic insomma e robertino invece vieni da deluca insomma forse signor deluca e io farò gli annomi buono originale non è più facile robertino insomma invece il tuo nome è l'arbi perché è bertino sembra iberta negozi notte e giornata capisci sembra iberta negozi io italiana tutti chiusi alle nuove io no mai iberta signor deluca anche lì io parli a me e berta anche lì già qua capisci ecco plastic tu dove vivi adesso tu dove vivi adesso la stazione ti sei spostata al 4 la stazione ti sei spostata al 4 via carmeli dormina stazione dormina tutti salerno casa mia auguri sicura cento facendo auguri forse a gerardo original prefectura si no gennaio 48 larbi un attimo ci mettiamo di l'acqua abbiamo anche dei bambini a me inizio inizio avanti per favore Allora facciamo l'identificazione. Io giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo capo di osservare realmente le leggi dello Stato. Lo giuro. Lo giuro. Grazie. 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 Grazie.